Dunque, a costo di sembrare noioso, penso che sia superfluo, nel senso che io vado sempre più alla sostanza, al contenuto, che non alla forma, che secondo me viene di conseguenza, quindi la mia risposta è superflua. Il cibo preferito da buon italiano ovviamente è la pasta asciutta, anche questo rischia di essere una risposta piuttosto banale, ma oltre al design sono appassionato di corsa, quindi la pasta è come il completamento dell'energia corporea che serve per arrivare a fare una maratona.